Quale cazzo? Io sono stata sempre a Roma di Roma. Io sono stata cresciuta, sono entrata a cinque anni. Quale cazzo? Non ho giusto se non andavi via. Non mi sa, non mi sono andati via. Sarò bello, non ho giusto. Io il primo ricovero l'ho avuto nel 99. Io chiedevo a mia mamma di non lasciarmi morire in manicomio. Avviene, avviene ancora nel 2017. In questo momento è pieno di persone legate ai letti, nei reparti. È la norma. Ora, la metafora utilizzata per il manicomio era l'hager. I servizi psichiatrici di agno secura sono una sorta di fabbriche, catene di montaggio di esseri umani, considerati come delle macchine biologiche rotte. Io non sopporto la parola matto. Vedendo quello che è successo a mio zio, io non escludo che un giorno possa capitare a me. E non credo che si debba avere paura di un reparto psichiatrico.